La quarantena ha messo in letargo le vostre doti da Don Giovanni? Eravate i playboy della palestra, ma adesso vi sentite smarriti? Cuccavate alla stragrande qualsiasi cosa respirasse e ora non battete chiodo? Non disperatevi! È uscito Come rimorchiare vostra moglie in quarantena. Come rimorchiare vostra moglie in quarantena vi aiuterà a sedurre vostra moglie risvegliando passioni a lungo sopite. Imparate le frasi giuste per rompere il ghiaccio. È libero? Aspetta qualcuno? Vengo sempre a mangiare qui. Può essere che ci siamo già visti? Sfruttate le occasioni propizie. Ci incontriamo spesso qui. Caso o destino? Dai che devo pisciare! Sottolineate gli interessi comuni. Netflix! Ce l'ho anch'io! Imparerete a pronunciare frasi ad effetto che Fabio Volo spostati. Sei il calzino spaiato che ho aspettato tutta la vita. Con un intero capitolo dedicato all'abordaggio presso il reparto ortofrutta. È matura secondo lei questa banana? È matura secondo lei questa patata? Cosa le ricorda questo rumore? Come rimorchiare vostra moglie in quarantena. Un'opera completa che vi insegnerà le più moderne tecniche di seduzione. Ormai è un mese che ci frequentiamo. Stasera ti porto a cena fuori. Ma se non possiamo uscire... Non possiamo? È una parola che non esiste nel mio vocabolario. Con risultati garantiti al 100%. Fa freddo? Voglio andare a letto? Possiamo andare per cortesia? Da te o da me? Come rimorchiare vostra moglie in quarantena. E anche voi potrete finalmente dire... Ma non vuoi finire che voglio dormire? Ma ormai ho l'account premium.